buon pomeriggio cari amiche e cari amici vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione riposo il milan riposa dopo l'allenamento del mercoledì e giovedì comincia un breve riposo poi si riprende fino alla prossima sosta di novembre e poi ho fatto un calcolo dalla prossima sosta di novembre cioè dopo la sosta di novembre si gioca novembre dicembre un mese dicembre gennaio un mese gennaio febbraio un mese febbraio marzo un mese quattro mesi consecutivamente dentro o fuori in campionato in coppa italiana in supercoppa italiana e in champions league ecco perché siamo sempre molto attenti a ogni mossa di mercato perché la rosa del milan non è sufficiente la rosa del milan non è sufficiente qualcuno si era illuso che ci potrebbe ci forse ci potrebbero essere stati degli inserimenti da milan futuro ma non è in questo momento potrebbero dare non quello che richiedono gli impegni del milan in campionato in coppa no quindi i ragazzi di milan futuro li seguiamo stanno crescendo però da me in questo momento uno che va dal posto dei primi 16 17 della rosa direi proprio di no anche se ieri nell'under 19 di bollini bene nel 3 a 3 contro il galles bene camarda bene liberali però insomma illudersi che la rosa forse avrebbe potuto avere un suo completamento con i ragazzi direi andiamo a prendere giocatori veri veri intendo come esperienza come diciamo conoscenza del calcio a grandi livelli i ragazzi li aspettiamo possono essere potrebbero essere inseriti si fanno adesso già dato che in questi giorni c'è veramente poco però si incominciano a parlare dei nomi a giugno però in questo momento sinceramente almeno da parte mia è un è un argomento che non mi scalda tanto i giocatori di giugno mi interessano eventualmente i giocatori di gennaio oggi ha parlato paolo scaroni c'è al festival di trento dove io con peppe di stefano sarò domenica in piazza duomo alle 15 e 30 festival dello sport per parlare del nostro libro c'è solo un presidente oggi c'è stato quello che viene la riunione degli stati generali presente anche paolo scaroni è ha detto quello che tifosi si aspettavano che dicesse sì la sostenibilità sono arrivati adesso siamo arrivati quasi a 500 milioni di di incasso per quello che riguarda il marketing sponsor eccetera ma bisogna vincere perché senza vincere tutto questo è inutile inutile parole dolci parole dolci per i tifosi del milan che hanno sempre sentito parlare di va bene entro i primi quattro arrivare in champions league adesso che siamo un po indietro si incomincia a capire che il valore del il valore della vittoria il valore dei trionfi il valore delle prestazioni vincenti e ha detto una cosa interessante qui vorrei aprire una parentesi care amiche cari amici lo stadio allora sembrava che ormai l'ipotesi di istruzione san siro non c'è e eventualmente ci poteva essere sarebbe potuto essere questa l'idea dal 2019 di costruire era la soluzione migliore uno stadio accanto a san siro con san siro distrutto san siro distrutto non si può distruggere tenerlo solo una qualche qualche pezzo di san siro allora si è pensato visto che non c'era la possibilità di costruire di fianco è allora di andare di andare a san donato però sta sempre più lentamente prendendo l'ipotesi anche se le cose a san donato stanno procedendo in maniera promettente però io e già la seconda l'ha detto anche paolo scaroni oggi l'ipotesi sia san donato va avanti abbiamo già speso 40 milioni ma non so se lo fanno per tenere i buoni rapporti con il sindaco beppe sala però ma ma vediamo se si può costruire lo stadio di fianco a san siro io non so come cosa come cosa possa succedere per costruire lo stadio di fianco a san siro perché se c'erano tutti i comitati del mondo i verdi del mondo i comitati di quartieri del mondo che non erano d'accordo non credo che fossero d'accordo solo sul fatto di non distruggere san siro ma mi sembrava non fossero abbastanza netti sul fatto di non costruire un secondo stadio adesso si prende in esame questa situazione se io sento la parola però referendum o dibattito pubblico come credo che poi emergerà non riesco a capire non è facile neanche in questa situazione abbastanza confusa in generale non riesco a capire adesso come funzionerà la questione dello stadio perché se dal 2019 fino a poco tempo fa non si era non si era non si era riusciti a capire quale fosse l'evolversi della situazione perché ogni tanto arrivavano dei belli stop con referendum dibattiti proteste eccetera eccetera non capisco cosa possa cambiare se dal 2019 per anni è andata così da adesso in avanti però sento sempre più parlare di stadio vicino a san siro che è una soluzione che magari per quelli che abitano dalle parti di qui a nord di milano potrebbe essere l'ideale però la san donato da quello che mi dicono proseguono non so ripeto non so se si tratta solo di tenere delle public relation con il comune e tenere viva questa situazione così a livello istituzionale cortesia istituzionale invece andiamo a un altro argomento che mi interessa mi interessa perché mi interessa perché io sono sensibile alla storia del milan a me che maldini giochi nazionale daniel non venendo dal milan a me non è che sia la cosa più importante della mia vita in questo momento però parlando di calcio mi disturba daniel maldini io gli auguro di vincere il pallone d'oro in questo momento non è il più grande giocatore del mondo ma vederlo crescere qua per esempio vi dico sapete le famose favole del milan le favole del milan ce ne sono state tante in questi decenni era bello per esempio il debutto di daniel maldini giocatore del milan va bene anche se giocatore del monza per i maldini però sto parlando in questo momento del milanismo che c'è in me e nei maldini pensate il nel gennaio del 1985 il 20 mi sembra ha debuttato ha debuttato paolo maldini a udine cero dopo la nevicata tremenda di milano il 20 gennaio debutta paolo maldini e nell'85 lui è del 68 a 17 anni debutta nel milan pensate l'italia gioca contro israele a udine e che bello sarebbe debuttasse daniel maldini ma sono favole che piacerebbe viverle da 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 milanista da tifoso rosso e nero per un giocatore del milan ma ciò ho una novità che mi è così mi ha un po' gratificato parlando sempre di maldini maldini al monza c'è una percentuale sulla rivendita ma c'è un'altra clausola molto interessante perché come quando incomincio a leggere marotta sta guardando il figlio di maldini magari la juventus sta guardando ecco allora non scherziamo non scherziamo assolutamente il milan ha o diritto di prelazione su un'eventuale cessione di maldini ha di diritto di prelazione e quindi il milan se decide di andare a prendere maldini perché non vada in un'altra squadra e poi gli interessa per ovviamente migliorare la caratura della sua ha questo diritto di prelazione pagando la metà della cifra offerta dall'altra squadra ipotesi la squadra x offre per maldini 10 milioni il milan ha diritto di prelazione dice no ve ne do 5 e torna da me per capirci è una cosa fondamentale della nostra vita in questo momento del milan che dietro zero punti in classifica in champions league e nel peggior inizio della degli ultimi dieci anni non è la cosa fondamentale però incominciamo a chiarire questi punti incominciamo a non avere questi problemi anche che vanno oltre e mettono ancora più disagio mettono più a disagio i tifosi del milan perché ci sono dei paletti nella nostra vita nella nostra vita uno dei paletti sono i maldini non cesare ci guarda da lassù paolo adesso non non lavora più nel milan daniel però il milan meno male ha tenuto questo diritto di prelazione quindi daniel va bene a monza gli auguriamo una grande carriera monza ma se ci fosse qualche altra squadra che proprio vedremmo male vedremmo male un maldini in qualche squadra proprio per il per diciamo per la per la storia per la genesi per il dna della famiglia maldini il milan può e speriamo lo faccia non voglio neanche pensare che abbiano dei dubbi maldini va bene monza da adriano galiani che praticamente è sempre abbastanza casa nostra se vogliamo dire ma non scherziamo su in altre squadre oltretutto che cozzano con la storia dei maldini se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelegati attivate la campanella e scaricate il link in descrizione